Consigliere comunale Giacomo Sargio della lista Bassano Congiunta, componente della Commissione Lavori Pubblici. In qualità di consigliere ho esaminato i progetti che sono stati canterizzati alle mie spalle e la mia posizione è questa. Da fine del 1800 il viale delle fosse è stato progettato dal Miazzi ne è passato del tempo. Oggi ci troviamo di fronte ad un progetto di questa amministrazione di valorizzare questa area dal punto di vista della viabilità e dei percorsi, soprattutto in risalita da Prato-Santa Caterina. Sappiamo che ci sono tante critiche, so che ci sono tante critiche a riferimento a questo progetto, però da parte mia non ho particolari remore e anche difficoltà nel difendere una scelta di questa amministrazione che punta a una nuova progettualità della mobilità sostenibile che partendo dalle rotatorie vede un proprio punto di forza e di nuova sensibilizzazione anche di quelli che saranno poi i percorsi pedonali e ciclabili. Pensare di rifare tutte le rotatorie che ci sono o di rifare tutta la viabilità di Bassano è impossibile. Bisogna partire da dei dati concreti e da questi, cercando di sviluppare tutte le possibili soluzioni del passato, provare a trovare delle alternative. Nel passato, già con l'assessore giunta ai tempi dell'amministrazione Bizzotto nei primi anni del 2000, sono state proposte diverse soluzioni a questo progetto di rotatoria di risalita da Via Santa Caterina. Alla fine le soluzioni si possono sintetizzare nel recupero di quello che è poi la statua dell'attuale General Giardino all'interno di una rotatoria molto più grande e invece di una rotatoria molto più minore per proporzioni che si mette in relazione direttamente alla viabilità di accesso a Prato Santa Caterina e alla Viale delle Fosse e alla Statale 47. Siamo di fronte con questa soluzione non ad una proposta che vuole sicuramente sistemare la viabilità in maniera definitiva a Bassano, ma ad una proposta specifica, relativa a quelle che saranno poi delle altre valutazioni generali che verranno fatte sul piano urbano del traffico o sulla mobilità sostenibile, come vogliamo chiamarla. Penso che la soluzione di creare una rotatoria alla fine di un viale, che è sempre stato un viale molto bello per Bassano, di affaccio alla Val Sugana e una terrazza urbana verso una valle che tutti ci invidiano, penso anche nel mondo. E penso che questa rotatoria non la modifichi nei suoi tratti essenziali, anzi la valorizzi in quello che è poi il tratto terminale di prospiciente a questa valle. Quindi l'ipotesi che il viale modifichi una terrazza urbana su un panorama bellissimo, questo sicuramente non sarà fatto. Sarà invece, penso, valorizzata questo punto e verrà sistemata una viabilità locale di accesso. Quindi le persone, i flussi veicolari provenienti da nord della Val Sugana potranno andare agevolmente a parcheggiare in Prato Santa Caterina. Nello stesso momento potrà essere limitato il traffico all'interno di Viale dei Martiri verso il centro storico, in quel progetto di isola ambientale di cui tutti se ne lavano la bocca, ma in qualche maniera qualche proposta graduale e nel tempo bisognerà pur farla e approfondirla. Allora, altre possibili soluzioni come quelle pubblicate nel forum di Bassano Online sono sicuramente delle soluzioni che meritano approfondimenti, meritano delle possibilità eventuali, future, magari anche percorribili. Non sicuramente nell'immediato, perché nell'immediato valutare eventuali piani di recupero che coinvolgano altre proprietà su fabbricati limitrofi, volumi adiacenti che possono essere in qualche maniera demoliti, recuperati all'interno di quello che è il sedime della rotatoria eccetera, sicuramente ne valorizzerebbero meglio i raggi di curvatura, le dimensioni della rotatoria, ma sarebbero sicuramente ipotesi che meriterebbero approfondimenti molto più marcati e che porterebbero via sicuramente molto più tempo. L'attuale proposta mi sembra che sia quella più immediata, quella che dia le risposte alla viabilità, quella che valorizzi e che sia in sintonia con la mobilità sostenibile e con il piano urbano del traffico che verrà a breve proposto dall'assessore nuovo alla mobilità Andrea Zonta e che in concertazione con tutta la città verrà proposto, verrà valorizzato eccetera. Questa è una singola rotatoria che non si pone come obiettivo quella di risolvere il traffico sicuramente di Bassano, ma di dare una risposta nell'immediato a quelle che possono essere le varie soluzioni. Grazie.